E che si mangia oggi? Petto di pollo alla mediterranea, gustoso e saporito. Preparate il pane che qua la scarpetta è d'obbligo. Versate in una padella l'olio extravergine di oliva e fate rosolare l'aglio. Infarinate le fettine di petto di pollo. Eliminate la farina in eccesso. E fatele rosolare in padella. Aggiungete anche il rosmarino. Aggiustate di sale e pepe, che come sempre mi piace assai. Girate le fettine di pollo per una cottura uniforme. E lasciate cuocere per qualche minuto. Quando saranno ben rosolate, sfumate col vino bianco. Lasciate evaporare completamente la parte alcolica. Alzate le fettine di petto di pollo e trasferitele in un piatto. Aggiungete nella stessa padella i pomodorini precedentemente lavati e tagliati. Aggiustate di sale. E portate a cottura, mescolando di tanto in tanto. A questo punto, posizionate nuovamente le fettine di petto di pollo nel pomodoro. Aggiungete i capperi. Le olive. Mescolate e aggiungete un bicchiere d'acqua. Fate cuocere per qualche minuto. A questo punto, unite l'origano. Mescolate ancora e portate a cottura. Il vostro pollo alla mediterranea è pronto per essere servito e gustato. Cremoso, succulente e saporito. Buon appetito a tutti. Alla prossima videoricetta. Ciao!